Ecco, mi sembra di conoscere questa voce, dopo ti pago. Ora ci vuole un attimo di pazienza perché, visto che siete tutti diplomati e laureati in Deia Streis, come voi sapete nella sua carriera, come vedete infatti, mi sono già pentito di aver fatto questa cosa perché dovete pensare che caricare e scaricare tutti gli strumenti, 250 chitarre, tutto perché lui nella sua storia ha cambiato molte situazioni, molte cose, quindi adesso appoggio quello che rimane di questo Stratocaster e prendo un'altra chitarra. Intanto io volevo fare di nuovo un applauso per il grande, immenso Andrea Cervetto. Permettetemelo a nome di tutta la band. Grazie per l'immenso, vorrei capire in che senso. A nome di tutta la band, ti stimiamo tanto ma non troppo. Grazie. Esatto, è uguale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Questo motore, Alex Polifrone. Grazie a tutti. 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 Grazie mille. Procede il cambio chitarra e qua è tutto un lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.